Allora, in palestra salapiesi cosa mi insegnano? A mettere il peso in un busto, cioè a sentire che la forza va lì questa è assolutamente la cosa più sbagliata dal punto di vista funzionale cioè chi corre, chi fa delle attività nel tempo impegnative sa che le gambe quindi già abituarsi a sentire la forza dei muscoli porta l'intenzione a portarla quindi qual è il problema di crutturisti? che braccio così però tagli la legna dopo un minuto e ti braccio così che non ti si muove più e in realtà tu tenendo la forza dentro non le esprimi né tagliate cioè le cose funzionali devono essere fatte così cioè io sono un vuoto dentro, ma perché sono un vuoto? perché la forza mi attraversa, cioè siete continuamente un conduttore della forza invece tutta la gente la tiene, quindi vivere in una fatica incredibile perché la tiene qui, la tiene lì, è come i cubi quindi metti il primo cubo così, il secondo così, e poi devi mettere i cubi la prima cosa è scaricare grazie grazie